Nel corso di complessa ed articolata attività di indagine disposta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, tendente al contrasto di attività illecite finalizzata allo scavo clandestino, a saccheggio e alla distruzione di aree archeologiche presenti nel sottosuolo del Centro Storico di Napoli, personale del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Napoli, in esecuzione del decreto di sequestro emesso dalla menzionata autorità giudiziaria, ha rinvenuto e sottoposto a sequestro ambienti sotterranei pertinenti all'antica struttura religiosa. L'attività investigativa ha permesso di portare in evidenza l'illecita attività svolta nel tempo da un imprenditore napoletano, il quale, sfruttando l'utilizzo di locali terranei e la sua disponibilità collocati in centro città, ha posto in opera una serie di scavi sotterranei clandestini allo scopo di individuare e trarre profitto da realtà archeologiche e siti nel sottosuolo. Il sequestro ha permesso di interrompere le attività di scavo abusivo in una chiesa medievale databile all'undicesimo secolo sita a circa 8 metri di profondità da livello stradale, di cui è attualmente visibile un'abside semicircolare affrescata in discreto stato di conservazione, sulla quale è parzialmente identificabile l'iconografia del Cristo in trono, con al di sotto decorazioni a velarium ed un'iscrizione dedicatoria in parte già decifrata. Dell'antica chiesa è emersa anche parte della pavimentazione realizzata in lastra di marmo bianco di spoglio. L'eccezionalità della scoperta restituisce al patrimonio pubblico i resti di un raro esempio di arte medievale dell'undicesimo secolo, la cui decorazione riscontra delle similitudini con il vicino sacerlo di Sant'Aspreno e si aggiunge alle non numerose testimonianze pittoriche del periodo medievale sul territorio nazionale. Nel corso delle attività investigative, che nel solco dei protocolli di intesa stipulati tra la soprintendenza di Napoli e la procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si sono avvassate le competenze del concreto contributo tecnico operativo della soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio per il comune di Napoli. Sono stati ispezionati numerosi locali di proprietà dell'imprenditore, siti nel centro storico di Napoli, sottoponendo a sequestro anche altri cunicoli sotterranei oggetto di scavi clandestini, pertinenti alle fondamenti di un palazzo settecentesco, vincolato a quale bene culturale di particolare interesse storico-artistico. All'imprenditore napoletano sono stati inoltre sequestrati circa 10.000 frammenti ceramici di natura archeologica di epoca romana e medievale, probabilmente provenienti dal settore suburbano dell'antica città di Neapolis, riconducibili anche ad altre aree non esplorate nel corso delle attività investigative. Sono stati inoltre sequestrati 453 reperti archeologici integri di epoca romana, tra cui crateri a figure rosse, anfore, lucerne e pipe in terracotta, moneti di epoca romana e medievale. Il materiale recuperato è l'intera area sotterranea in sequestro, saranno oggetto di ulteriori indagini e approfondimenti scientifici da eseguire in concerto con le competenti sovrintendenze archeologiche della città di Napoli, a sfide di consentire la messa in sicurezza dei locali, la loro tutela e conseguente valorizzazione. Il provvedimento eseguito è stato emesso nel corso delle indagini preliminari, il destinatario dello stesso è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.